SONDI CELLULARI Ma chi sei? Che cazzo? Red Beast? Hit Girl e Big Daddy. La gente si astufa di vivere nel terrore. Serve un messaggio forte e chiaro. Fare il supereroe fa male alla salute. Quel tipo del cazzo è spucato fuori all'improvviso. Basta giocare, ragazzina. Detesto giocare. Su, forza! Fatevi sotto! Noi siamo due supereroi. Ci amano. Noi siamo due supereroi. Ci amano. Noi siamo due supereroi. Ci amano. Grazie.